Impossibile ipotizzare lo spostamento del personale in servizio in una sede di staccata, distante dai mezzi e dalla sala operativa. È da questo punto fermo che si dovranno sviluppare gli interventi di messa in sicurezza della caserma dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lucca. Dopo i sopralluoghi di lunedì e martedì, dove sono state constatate le situazioni di pericolo derivanti dai cedimenti strutturali di parte delle camerate e dell'edificio degli uffici amministrativi, è stato deciso di installare dei motuli esterni di emergenza, come avviene in occasione di interventi in caso di terremoti o altre calamità. Una situazione che si è venuta a creare a causa degli eventi meteorologici degli ultimi giorni, che sono andati ad incidere su una struttura vecchia e che necessita di continua manutenzione. L'amministrazione provinciale, che è proprietaria di questo immobile, non ha mai fatto mancare la sua attenzione tempestiva e sollecita. Ed è in continuità. Attendiamo proprio nella mattinata di domani un ulteriore sopralluogo dei massimi vertici tecnici dell'amministrazione provinciale. Noi dobbiamo mantenere continua la nostra operatività di soccorso e soprattutto la nostra tempestività di soccorso. Tutte le decisioni che andremo a prendere saranno decisioni che saranno dettate dalle informazioni che man mano acquisiremo nelle prossime ore. E avranno tutte questo connotato. Massima tempestività e continuità nell'azione di soccorso. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo sopralluogo dei tecnici di comune e provincia per coordinare gli interventi da eseguire per la messa in sicurezza del personale. Interventi che andranno eseguiti necessariamente in somma urgenza, ma i cui tempi non sono ancora stati previsti. E adesso la speranza è che in questo periodo non si verifichino emergenze tali da rendere necessario un aumento del personale in servizio, soprattutto notturno.